Che vuoi, che vuoi, che vuoi, che vuoi, che vuoi Che vuoi, che vuoi, che vuoi Che vuoi, che vuoi, che vuoi E poi vuoi, che vuoi Ci riuscite il sole e lo scavo Interviste dopo gara Ci siamo concentrati come prima intervista Sul mister dell'Albinia, mister Cinelli Mister, intanto una partita un po' particolare Un po' in colore, se vogliamo Soprattutto nel primo tempo Molti errori Forse la fata da padrona all'errore In questo match Sì, sicuramente una partita delicata Sia per noi che per loro Per noi più di loro Era normale che ci fosse un po' di tensione Così Devo dire la verità, noi senza Aver perso per quattro giornate Il nostro attaccante Non avevamo un punto di riferimento davanti Anche se il ragazzino si è comportato bene Ma era iniziato ad allenarsi Da due settimane, era tre mesi che era fermo Non era nemmeno in condizione Purtroppo quest'anno è un'annata così Che tutte le domeniche non siamo in una squadra base Riusciamo sempre, o per infortuni O per squalifiche A non essere Sempre gli undici Che dovrebbero giocare Squalificato mister Bernini Sauro Mugnai Secondo allenatore della giallo-bruffiglina Oggi in panchina Partita su due facce Almeno quello che abbiamo visto Primo tempo da dimenticare Un po' noioso A parte il gol di Frediani Secondo tempo invece è cambiato un po' qualcosa Primo tempo un po' noioso L'attenzione della partita L'importanza di questa partita Di fare tre punti Quasi obbligatori Ci condiziona un po' Già un po' di domeniche Che ho già detto anche domenica scorsa Che queste tensioni Non si gestiscono tanto bene Oggi era importante fare risultato Era importante non andare Sotto Siamo riusciti a mantenere Sempre Ben o male Il pallino del gioco Siamo andati in vantaggio Pur non giocando bene Poi nel secondo tempo Una volta sbloccati Con la serenità Abbiamo subito un gol Un po' così e così Però siamo stati capaci Di reagire Di segnare Una, due, tre volte E poi la squadra si è espressa Ai livelli che Era abituata Un po' di tempo fa Emiliano Frediani Ai nostri microfoni Oggi Hai sbloccato Il risultato Con un calcio di punizione Fra te E Pippo Degori Siete coloro Che possono fare Quello che vogliono Da calcio di punizione In questa categoria Ti senti un po' In competizione Ma no Ormai che vuoi competizzare Ormai Beh comunque sarebbe interessante Vedervi nella stessa squadra Chi batterebbe le punizioni? Ma Non lo so Da direttore sportivo Devi parlare Da direttore sportivo I rigori lui sicuramente Visto che Le li danno E li fa Quindi Sì oggi Siamo riusciti Siamo riusciti a sbloccare Il risultato A un minuto Alla fine del primo tempo E lì è stato Fondamentale Siamo rientrati Un po' Un po' così Abbiamo preso il gol Del pareggio Su una nostra Indecisione Poi meno male Dopo pochi minuti Ci hanno Ci hanno regalato Il 2 a 1 Perché Rivedendo poi Anche la partita Sicuramente Sono stati Il secondo e il terzo gol Regalati dal Dal portiere loro E niente Però credo che L'atteggiamento L'atteggiamento È quello giusto Siamo riusciti